Ah ok ora comandiamo gli altri Red che cambia voce così Mi fa Non lo so Oddio comandiamo Kite Guardalo Guardalo Ecco Fattore tenerezza preso Kite sit in azione Quando c'è abbastanza spazio Kite sit può avanzare facendo delle capriole con R2 Premuto ma attenzione a non urtare qualcosa Dona chi è topolino Diventato No vabbè E' finita E' finita Come attacca? Ah col megafono così Direttamente Non c'è nulla Ci sono anche materiali Il livello di nido a raccogliere Eh qui al piano di sopra Non ci possiamo andare Comunque mi piace tanto questa cosa Che dividono a parte delle storie Con parti diversi Per farti utilizzare un po' tutti Molto bella sta cosa Mi piace parecchio Oh Un'altra sezione dove dobbiamo fare le prove Un'altra sezione Aspetta Non c'è nulla 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 La 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 Questa Grazie a tutti. Oh, allora c'è un'arma. Oh, allora c'è un'arma. Quindi anche il puzzle con Kite. Ok. Lanciare le casse. Quando Kite Seat non ha abbastanza forza per spostare qualcosa o non riesce ad arrivare a interruttore o altro, se sei in un posto in cui il Moguri può entrare in ozione, chiamoli in aiuto con sopra. Ad esempio per lanciare le casse. In modalità touchpad, L2 solleva, poi mira e lancia. Facendo scorrere cambiano forse angolo di lancio. Eh, addirittura. La donna è lentissima. Quindi le casse queste qua penso posso lanciare. Ah no, queste le posso spaccare. Lancia la cassa. Oddio, pavoletto, il suggerimento l'ho perso. Quando hai bisogno di più casse? Ah, le devo spaccare lanciandogliele. Ah, allora sono queste le casse che devo prendere. Ecco. No, non l'ha preso. Scusa, ma posso... Ecco, vedi, posso fare di qua anch'io così. Ah, la prendi direttamente. Allora, R1. Posso fare mira. L calibra il tiro e regola l'angolo. Ah, ecco, vedi? Ah, vedi, funziona, ok. Ok, ho capito come funziona. Quindi io la devo tirarla là. E quindi anche qua devo farlo. Questa è che si sono inventati. Megafono d'oro. Ma non avevo già preso il memo le armi con tutti gli slot collegati, eh? Perché, in teoria, le armi finali poi sarebbero quelle lì. Ma non vuole. Oh, va. non lo colpisce cioè muore prima ah qui le casse le potevo prendere vedi lì c'era un tesoro però ok vedi posso che figate però si sono inventati praticamente una diciamo delle azioni speciali per ogni personaggio lancia delle casse per liberare il passaggio eh lì non va bene e allora mi sa che devo andare devo andare qua sopra mi so ma no lo dovevo colpire il mirino era lì era giusto che scammata dai posso passare sotto la sbar guarda che bellino piero che passeggia allora qui dobbiamo fare attenzione ecco edi qua c'è un altro non ci possiamo salire qui ci sono degli avversari non c'è un altro non c'è un altro bellissima Però bella sta combo Ah devo fare il giochino del reattore Ok quindi devo lasciargli correre una cassa Ma intanto apriamo qua Ci vuole qualcosa per attutire la caduta Eh no Giustamente non ce la fai Eh ma il Mukuri si Ok qui dovrebbe andare bene Si Arigato Strano gli abbiano messo su queste casse qua Madonna sta parte sul pc Chi non ha un pc buono esplode Questa cosa è stata messa per dire guarda quante potente playstation Oh no Oh no le ducche dell'evento di Halloween di Ever Crisis E' comodissima come tecnica Ci sono cassi di codiuante mago Ah che devo metterli lì devo fare calestro Carino Carino Ah che devo metterli lì devo fare calestro Ok carina carina sta combo con il muguri grissinbone grissinbone mi sta sembrando la musica del grissinbone tra l'altro aumenta anche la cosa della tensione oppissimo ma mi sa che qua c'è un bel boss vedo che c'è una panchina non mi sorprenderebbe la cosa che bellino si siede lì fiero è una discarica sto luogo maggiore edo kiri kai l'evihan ha 点検を開始してください attenchi wa ue no kai ni alみたいですね なるほどなるほど dacuto oればなんとか これからどうする 問題ありません僕にドーンと任せてお二人はここで待っといてください ok ok provo a colpirlo con la cassa si ma dov'è il coso per farmi scendere prima cosa dacu tu ti dico acqua allora mi ha detto di provare a colpire ma devo colpire questo ok ora si può salire ma ci sono nemici non ci sono Ok, non la posso salire ancora Nemico fastidioso Ah, vedi, devo riconfigurare, quindi devo lanciargli la cassa da qua sopra c'è lol Oh no, ce ne sono due addirittura adesso. E se le evitiamo? E' impossibile. Oh, alleluia! E' un po' di più. 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 Non c'è delle casse per far scendere il montagari. Non c'è un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Eh, procediamo con ulteriore carico. A controllo. Lo hai cartace per fare? E' un po' di più. Prendi via un accessor obiettuale. ...V Carbon Caso il colony di lavoro. E Tracy Potige... ...Il hai carrot! Ecc? dovrebbero bastare ora devo spaccarle perché così possiamo salire di nuovo oh 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 no il doppio e due facce c'è una delle sezioni più difficili del gioco ah 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 shintodo ah 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 sono車 ah 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 a un po fresco qua Sì, presto, andiamo a l'arrivo. Per fare un'arrivo per fare l'arrivo per l'arrivo per l'arrivo. Sì. guarda me l'ho detto cecchino assai verano l'oggetto speciale questo va da johnny per la collezione di johnny hai oddio non vorrei che ora c'è un altro boss da fare però tutti insieme c'è una gasta lì c'è una gasta lì oh no come il codice della cassa aperta ma da sopra come ci dovrei andare dovrebbe esserci qualcosa che posso spostare immagino ecco no non si trasforma automaticamente guarda che il numero è segnato qua nelle casse è un mimic sento dei rumori strani ecco lo sapevo che hanno nascosto ma è lo stesso codice oddio hanno lasciato lo stesso codice lol lol hanno lasciato lo stesso codice 36 10 59 97 è un culo aspetta scusa ma aspetta scusa ma aspetta scusa ma aspetta scusa ma ecco no ecco sono tutti ma l'hanno fatta diversa qua Allora 36 59 Doveva essere anche avanti indietro No 10 97 Ah allora veramente devo fare avanti indietro Anche qui e non me ne sono accorto C'era la freccia del senso di direzione E36 10 L'ho messo al contrario No non l'hanno messa la cosa della rotazione Ho semplicemente invertito l'ordine Allora 36 Minchia veramente un altro boss fight Però stavolta siamo in tre Ah guarda che c'è Il nemico della cassaforte Questa forte Quindi dovrebbe essere debole a fuoco Ma no non ce l'ha Se subisce una determinata quantità di danni fisici o magici Diventa resistente ai rispettivi attacchi Entra in tensione dopo diverse trasformazioni Eh ok vedi si funziona Nello stesso modo praticamente Ecco Ora è diventato resistente Quindi lo devi colpire con la magia Ok vedi Mi 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 eh però lui era qua era debole al fuoco se non mi ricordo male non è vero Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Arco giuda. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Oh, alleluia. Oh, alleluia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.